Io fumo circa 15 cigliarie al giorno, un pacchetto costa 5 euro e quindi quanto spendo. Sì, 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 sì. Io sono, come si dice, sono corroso dall'anima, dai sensi di curva. E questo mi fa soffrire parecchio. E questo mi fa soffrire parecchio. Forse ho sbagliato studi. Anzi, sicuramente. Dovevo cominciare a lavorare subito, a 15 anni. L'ho trovato da barista e il padrone era disposto a insegnarmi perché non sapevo farlo. Non ho preferito continuare gli studi. C'è perso tutto quello che mi sono perso di bene. La carriera, l'amore, gli amici, i figli. Mi sembra più pazzire. Tutto per niente, perché io non avevo niente. Quanto mi riferisco alle ragazze, le canzoni sono immaginate. Non è reale, è tutto virtuale. L'abbiamo a livetimando, è il tuo progetto che hai!. Mi danno la parla. Vinti con il ritmo tra ragazze, le canzoni sono immaginate. Grazie a tutti.